Ciao! Sono Nando il Telecomando! Attenti al buio! Dal 5 al 21 dicembre il vecchio segnale tv si spegne per sempre e si accende la tv digitale nelle marche! Una nuova era tecnologica con tanti canali in più, migliore qualità audio e video e nuovi servizi interattivi! Tenetevi pronti! Basta un decoder o un apparecchio tv con decoder integrato! Hai diritto a un contributo statale di 50 euro per l'acquisto di un decoder interattivo se hai 65 anni o più, un reddito pari o inferiore a 10.000 euro e se è in regola con l'abbonamento Rai! E se hai dubbio per sapere quando il tuo comune è coinvolto chiama il numero verde 800 022 000!